Autentico testimone dei valori della Repubblica, Rosario Livatino, ucciso in un vilagguato mafioso mentre si recava al Tribunale di Agrigento, sua sede di servizio, ha sacrificato la propria vita per affermare valori dello Stato di diritto contro la cieca violenza della criminalità. Con questo messaggio, in occasione del convegno che si è svolto ieri durante la peregrinazio romana della reliquia del giudice, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare il giovane magistrato siciliano, ora beato, ucciso il 21 settembre del 1990 dai killer della mafia grigentina. Fino al 21 gennaio la teca con la camicia insanguinata che Rosario Livatino indossava la mattina dell'omicidio il 21 settembre del 1990, per mano dei killer della mafia grigentina, sarà esposta nelle sedi delle massime istituzioni italiane, da Montecitorio al CSM, dal Ministero della Giustizia al Comando della Guardia di Finanza, fino al Senato della Repubblica. Sono previsti due convegni al Senato in Confindustria, con la messa conclusiva nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. La memoria del suo esempio invita tutti a proseguire nella battaglia a difesa della legalità, rinnovando l'impegno a cui tutti siamo chiamati per contrastare ogni forma di criminalità, con la stessa coerenza e determinazione, ha concluso il Presidente della Repubblica, che hanno contraddistinto il suo agire.